Ciao sposine e sposini, buon agosto! Stiamo per arrivare alla parte clou dell'estate e anche io con il vlog ho bisogno di fermarmi un attimo perché devo necessariamente seguire le mie spose e i miei sposi al 100% però non vi lascio soli, quindi come ho fatto anche l'anno scorso nel mese di agosto vi dedicherò gli imperdibili cioè dei consigli che ho pubblicato tempo fa ma che secondo me sono molto importanti e non ve li potete assolutamente perdere quest'anno soprattutto riguardano il giorno del matrimonio e quindi oggi l'imperdibile del primo venerdì di agosto riguarda la preparazione della sposa quindi vi metto il link in descrizione e andate a vedere questo video importantissimo ma vi metto anche un altro link in descrizione che è quello del mio nuovo sito robertapatane.it nella sezione blog potete andare a curiosare e a vedere delle foto di preparazione della sposa fatte durante alcuni matrimoni che ho scelto di farvi vedere e di raccontarvi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!